Salve e benvenuto al nostro amico libro. Che apre con una ricca sezione di pubblicazione, inquadriamolo, di Renato Guardiello, nato a San Marco in Teano, vive e risiede a Trani. Lo ringraziamo per il suo ricco omaggio che ci ha fatto personalmente. Allora, padre mio di Alda Merini, un'autobiografia interiore. E allora sfogliando il volume possiamo vedere i vari interventi personali di Alda Merini. Davide nacque povero, ma non sentì mai i suoi bisogni. Io attraversai il manicomio in piena letizia. Forse ho sbagliato la strada, ma non avevo voglia di tornare indietro a vedere le cattiverie del mondo. Si nasce non soltanto per morire, ma per camminare a lungo, con piedi che non conoscono dimora e vanno oltre ogni montagna. Alda Merini accenna alla sua vicenda di reclusa, perché ha avuto dei problemi dai quali poi è fortunatamente uscita. La passione è un inverno. Vorresti una carezza e ti cade addosso. Una mano piena di spine, una mano volgare e disattenta, che ti parla di morte, di abbandono, di spazio chiuso. La paura che l'uomo e il pensiero intorbidiscano i torrenti della tua infanzia. Diventa a loro una preghiera ardente, una bottiglia che getti nell'acqua, sperando che la raccolgano gli angeli. Il brano è ricco di riferimenti autobiografici, commenta l'autore. Via di questo passo con queste composizioni poetiche, con le vicende biografiche, che continuano in questo volume il Cantico dei Vangeli di Alda Merini, che vediamo ancora in copertina e in immagine, saggio, critico, letterario, prefazione del professor Michele Papè. Allora, vedete, sfogliando il volume, l'attesa della morte e l'attesa del giorno delle nozze. Io vorrei morire come l'aurora, disfatta nel sole come la notte, nell'aurora come la luce nella notte. Sentire così quanto deve essere forte l'abbraccio di Dio che mi ha fatto per la mia morte, per questo spazio colmo, solo dal silenzio del suo verbo, risucchio di tutte le parole. Vedete, abbiamo molte espressioni rimarcate coi caratteri. O Giuda, quel tuo volto, parole su parole, pensiero su pensiero, labbra su labbra. Vediamo questa immagine, ancora Alda Merini con le sue composizioni. Poi abbiamo, vediamo un po', ancora un'altra immagine di Alda Merini. Beati voi che piangete e vi santificate per gli altri e siete maledettamente storpi nel corpo, ma dritti nello spirito. Non siate servi, ma vincitori. Andate oltre l'odio dei vostri nemici, molto oltre, perché le vostre lacrime hanno preparato le vie del Signore. Ancora, da Caramanica, Renato, Guarriello, San Marco di Teano, passato e presente, storia e memoria. E di fatto, sfogliando il volume con molte immagini a colori, abbiamo questa ricca storia. L'ambiente, il paesaggio, i personaggi, lo sviluppo della storia in questa comunità. Vedete ancora le immagini e le composizioni. Sempre Renato, Guarriello, da Caramanica. Fontanelle, San Giuliano, Cappelle, un trittico tra natura, storia, arte. Il titolo e il sottotitolo danno un'idea concreta della ricchezza e varietà di questo volume. Storia del Santuario, Maria Santissima e delle Grazie, di Cappelle, con la collaborazione di Anna Marrese e Luigi Laurenza. Ecco il volume con le illustrazioni dell'ambiente, delle chiese, dei palazzi, degli arredi e anche dei protagonisti di questa storia. Sempre da Caramanica, Renato, Guarriello, un volume che c'è particolarmente caro. Perché? Il filocolo di Giovanni Boccaccio. E tutti capiscono. Una storia d'amore e d'avventura, di sapore antico. E poi già l'illustrazione di copertina fa vedere l'ambiente del filocolo di Giovanni Boccaccio che veniva da Napoli, dove si era trattenuto a lungo, e pubblica. Vedete, filocolo di Giovanni Boccaccio, corretto sui testi a penna. Questa è un'edizione del 1829. E avanti di questo passo abbiamo altre illustrazioni. Lieta brigata di giovani novellatori nel giardino di Corte. E poi ancora dei cavalieri a cavallo nel cortile della Reggia. E andando avanti, vediamo un po' fino alla conclusione. Favola di Apollo e Daphne, trasformata in alloro. Sempre Renato Guarriello, da Vip Edizioni. L'ultimo approdo sarà la tua voce. Io canto la speranza. Come viene ricordato, liriche varie. Ecco, abbiamo queste liriche che si possono leggere. Non sono naturalmente la Divina Commedia, però una testimonianza di composizione poetica. Ancora da Vip, sempre Renato Guarriello, a conclusione di questa prima ricca sezione. Segmenti di vita, da un vecchio diario si è acceso una luce e si confessa. Versi e racconti lontani e recenti. Allora, sfogliando il volume, vedete queste composizioni. Incubi e visioni, avvisaglia di tempesta, tra la veranda a nord già nero e settentrione, falcia il cielo un fulmine guizzante fra le nubi, bramoso di posarsi in cima alla collina. Il soffio del settentrione scuote la campana. Sulla lontana goglia del vecchio campanile, l'animo mio s'attrista. Abbiamo anche delle immagini, vedete, che ci fanno, inquadriamo queste immagini, che ci fanno rivivere l'ambiente, ecco, altri tempi, ma più felici. Abbiamo ancora questa immagine di questi contadini al lavoro con la trebbiatrice. Ecco ancora momenti di festa per questi segmenti di vita, che chiude questa piccola, ricca sezione di apertura. E abbiamo di Sabine du Merin, San Giuseppe, proteggi la nostra famiglia. L'illustrazione di En Ging Sang è una pubblicazione deliziosa delle Paoline, Giuseppe artigiano dell'invisibile, Gesù nascosto nell'ombra di Giuseppe, un padre che insegna, vedete, ogni capitolo è accompagnato da una relativa illustrazione. Servitore fedele, in marcia verso San Giuseppe, poi alla fine preghiere, novene e devozioni. Da Notte e Tempo, Mirko, Sabatino, La vita anteriore. È un romanzo, quindi chi ha voglia e ha tempo per leggerlo. Invece da Chimerick, Amore e psiche, che vediamo già rappresentato in copertina, poesie e racconti. Naturalmente si può scegliere tra i molti autori, le molte autrici e le loro composizioni. Da Daimon, Federico del Monaco, lo statico volo di una rima. E abbiamo qui queste composizioni che possiamo sfogliare, vediamo, cerchiamone qualcuna per dare un'idea a te che neghi. Sei, Amore, che la vita mia colora, dolce musica per un bimbo sordo, luce rossa di brillante aurora, forte disegno su un mio ricordo. Donna che un sentimento ignora, forte come forse io non sarò mai, tra sogno e paura di essere sola, pensarmi e cercare ancora guai. Sei, Amore, che la vita mia colora, donna che un sentimento ignora, innamorata, lo neghi ancora? E veniamo ancora a WIP, con questa pubblicazione di Renato Guarriello, Luigi Laurenza, quindi torna Renato Guarriello, Pugliano di Teano, trapassato e presente, sogge di storia locale. Allora, sfogliando i volumi, vedete, abbiamo il testo, le immagini, i personaggi, la chiesa, la scuola, ancora ambienti, scolaresca elementare di Pugliano negli anni Sessanta, ancora altre immagini, chiese, illustrazioni, personaggi, eccetera. e chiudiamo la prima corposa parte, come al solito, prima della conclusione, da La Fontana di Siloe, di Gabriele di Comite, Santi, Martiri e Samurai, storia del Giappone cristiano. E' una storia che comincia con un gesuita, che è Francesco Saverio, che si reca in Giappone, e abbiamo annotato diverse citazioni, che vale la pena di ricordare, vediamo, per esempio, San Paolo, Michi e 25 compagni, e così furono messi in croce li detti sei frati, con venti giapponesi che erano familiari della loro casa, tra li quali ve ne furono tre fratelli della compagnia di Gesù, due di essi presero l'abito allora che andavano per essere crocifissi e tutti insieme dettero la vita per amore di Cristo. Io, i Deyoshi, condanno costoro a morte perché, nonostante la mia proibizione, hanno predicato ed abbracciato la dottrina cristiana, ordino che siano crocifissi a Nagasaki e che rimangano esposti in croce. Tra i condannati vi era il quattordicenne Tommaso Kozaki, poi si parla di Paolo Michi e via di questo passo con illustrazioni che possiamo inquadrare e vedere per avere un'idea concreta dell'ambiente. Vediamo qui una statua della Vergine Maria e ancora Marina Moriyama Midori, moglie di Paolo Nagai Takashi e ancora il matrimonio tra Paolo Nagashi e Marina Morieva. Altre illustrazioni che arrivano ai tempi nostri. Dunque, Santi Martire e Samurai in Giappone dalla Fontana di Siloe, da Whip Pugliano di Teano, da Daimon, lo statico volo di una rima, Amore e psiche, come già illustrato in copertina, da Chimerick, La vita anteriore, un romanzo di Mirko Sabatino da Nottetempo, un piccolo prezioso volumetto dedicato a San Giuseppe dalle Pauline, eravamo partiti da questa prima ricca sezione di pubblicazioni che Renato Guerriello, inquadriamo ancora una volta la sua immagine in quarta di copertina, inquadriamo, eccolo, ci ha portato personalmente. E concludiamo con due splendidi volumi che ci vengono da Olski e ringraziamo naturalmente e cordialmente Serena la divina commedia di Antonio Maria Esposito tra miniatura, scultura e spiritualità a cura di Silvia Corsi Andreani. E allora sfogliamo regolarmente questi volumi. Intanto qui a sinistra don Antonio Maria Esposito che commenta queste immagini che poi troviamo all'interno a mano a mano insieme ai ricchi contributi di molti autori ma noi vogliamo mostrare le immagini che ci parlano già da sole qui Umberto Boccioni e andando avanti vedete ancora queste immagini a colori che possiamo gustare che vengono illustrate naturalmente ampiamente nel testo ecco ancora poi abbiamo citazioni dal testo di Dante ma poco i valse che l'ale al sospetto non poter avanzare quelli andò sotto e quei drizzo volando suso il petto e vidi vientro terribile stipa di serpenti e si di versa mena correa angenti nude e spaventate sfogliamo queste pagine queste illustrazioni veniamo al secondo volume sempre di Orski dedicato a Dante Alberto Manguel e Nicola Giuseppe Sberilli Dante Orizzonti dell'esilio Landscapes of Exil perché il testo è in italiano e in inglese allora sfogliamo con calma e troviamo subito una bella immagine da Ravenna è una citazione dal Paradiso come distinta da minori e maggi l'Umi biancheggia tra i poli del mondo Galassia sì che fa dubbiare ben saggi sì costellati facea nel profondo Marte quei raggi il venerabile segno che fan giunture di quadrante in tondo qui vince la memoria mia l'ungegno che quella croce lampeggiava Cristo sì che io non so trovare è sempre degno ma chi prende sua croce e segue Cristo ancora mi scuserà di quel che io lasso vedendo in quella albor balenar Cristo ecco il testo con con le immagini che possiamo inquadrare da Ravenna splendide ancora Ravenna la basilica di San Vitale con le immagini ancora Ravenna il mausoleo di Galla Santa Polinare i quattro elementi eccoli qua hai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspre e forte che nel pensier rinnova la paura intrai per lo cammino alto e silvestro che due nature mai affronte affronte non trasmutò siccome in due le forme a cambiare l'ormatera fossero pronte io era già da quell'ombra partito e seguitava l'orme del mio duca siamo nel purgatorio e veniamo al capitolo acqua non discendemmo noi discendemmo in su l'ultima riva per mille fonti credo e più si bagna tra garde valcamonica e pennino dell'acqua che nel detto laco stagna inferno io ebbi vivo assai di quel chi volle e ora lasso un gocciol d'acqua bramo gli ruccelletti i verdi colli del casentien dicendono giuso in arno facendo i loro canali freddi e molli sempre mi stanno innanzi e non in arno perché io mi volsi e vidimi davante e sotto i piedi di un lago che per gelo avea di vetro e non d'acqua sembiante inferno e ora lì come assito decreto ci importa la virtù di quella corda paradiso col viso ritornai per tutte quante le sette spere e vidi questo globo tal che io sorrisi del suo vel sembiante paradiso quando labrina in sulla terra assempra l'immagine di sua sorella bianca ma poco dura e la sua penna tempra lovinanello a cui la roba manca si leva e guarda e vede la campagna biancheggiare tutta onde si batte l'anca che già per lui carpir si fa la ragna paradiso ancora dal paradiso e come augelli surti di rivera quasi congratulando a loro pastore fanno di sé or torda or altra schiera fino alla conclusione vedete quest'altre belle immagini senza riposo mai era la tresca delle misere mani orquindi orquinci escotendo da sé l'arsura fresca e se non fosse il fuoco che setta la natura del loco gli dicerei che meglio stessi a te che allora la fretta inferno dal purgatorio l'alba vinceva l'ora mattutina verso bellissimo ancora dal paradiso come ferro che vogliente esce dal fuoco over sfavilla del santo spiro fino alla conclusione dal paradiso o somma luce che tanto ti levi da concetti mortali alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente e con la divina commedia due volumi di olski chiudiamo questa trasmissione questa puntata sempre dedicata a voi e al vostro godimento arrivederci a